la z dello sport diablo dice matteo ma pippi cocaina no diablo non pippo cocaina non ho mai sfiorato cocaina nella mia vita e sono contento di non averlo fatto saluto nilza uno arriva e scrive ricchione ma che senso dai alla tua esistenza per arrivare qua alla una di notte mentre c'è tanta gente che fa domande fa proposte saluta venire qua a scrivere ricchione ti senti un grande uomo che ciucciamelo cina siciliana la adoro no non è un cannone è un cannolo preferisco il cannolo siciliano al cannone salita edoardo dice salvini ti servono i parrucchieri per sistemare il parrucchino il simpaticone delle 052 ammesso e non concesso che avessi il parrucchino e in caso chi se ne frega per il momento ancora bisogno non ce no però edoardo invece di ironizzare sui capelli di matteo salvini pensa a chi vorrebbe lavorare giugo scout scrive ammazzati no grazie non ne ho voglia consiglio interessante ma non mi interessa domani è domenica domani è il giorno di signore andate a confessarvi pentitevi e vogliatevi bene peace and love riccardo eccolo che è arrivato salvini dei libri tu vedi solo le immagini riccardo che simpaticone avrai successo nella vita non ci hai mai pensato a ficcarti una pallottola sul piede è il profondo pensiero di thomas arcidiacono thomas con la h ma l'hai dovuta pensare a lungo thomas arcidiacono ti vengono spontanee queste battutone sei nato simpatico o hai studiato un master in simpatia sono stati studi inutili perché scemo eri e scemo rimani cosa vuol dire venire a scrivere hai mai pensato di spararti una pallottola sul piede povero di spirito porti un po iella amico mio fa niente siamo tornati siamo ancora in 7000 madonna siete quasi più di prima stavo dicendo grazie a regione lombardia che ha bloccato il gioco d'azzardo trottolino amoroso non ti saluto perché la bestemmia la riservi a te e ai tuoi amichetti col cervellino piccolino piccolino su frank banna matteo muori bruciato dal corteo questo lo banno perché è un cretino banna 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 banniamo blocchiamo blocchiamo filippo vuole uscire siamo in due a uscire quando usciamo ci troviamo e organizziamo qualcosa per farci vedere sentire per contare perché altrimenti ci tengono solo davanti allo schermo secondo me qualcuno fa apposta a voler tenere gli italiani chiusi in casa lontani dalle piazze lontani dai negozi per tenere tutto sotto controllo perché è più facile controllare donne uomini ragazzi ragazzi cuori menti teste per chi ce l'ha la testa usando solo la distanza saluti da pescara un saluto ad anna dalla provincia di bologna maria legalizza l'erba adesso ma cazzo maria ma ma cioè sono veramente tarati alcuni di quelli che vengono qua insultare o a bestemmiare come se fossero costretti a stare qua date letto ragazzi nanna che magari fate dei bei sogni e magari domani vi alzate come uomini o donne migliori quindi un bacio vi voglio bene ecco la battutona sapevo che arrivava il simpaticone che mi fa buttati anche tu nella differenziata i simpaticone mamma mia che sghignazzate mamma mia che sghignazzate arrivato il coglione della mezzanotte 47 che bestemmia ma perché ragazzo ragazzo hai una vita davanti se non credi lascia perdere non insultare il prossimo dice sei un carciofo prendiamola piuttosto che salvini muori salvini finocchio viva la mafia e sbirri infami sei un carciofo può passarci dai c'è giacomo e leonardi che ha voglia di drogarsi se vuoi farti del male fattelo ma non rompere le palle vai su un'altra pagina noi passiamo la nostra notte qua buona nanna buono studio buon netflix buon fifa e buon tutto quello che volete voi buona vita minicis saluto edoardo rinalduzzi lucia e no tu bestemmi per te nessun saluto al massimo per nacchietto per nacchietto saluto ci michael mi dice strozzati con il brauglio che pensiero carino che pensiero carino ma quanto sei sfigato amico mio ma fai un po nicolas mi dice la canna da pesca infilala nel culo è un pensiero profondo poi leggo che qualche giornale fa gli esami fa tutte le analisi ma accolo mariano è qua per insultare mariano fatti una vita mariano se la tua massima aspirazione è venire qua a mezzanotte e 37 di un giovedì notte entriamo nel 44esimo giorno di quarantena e ti diverti perché sei qua a insultare ti mando un bacio perché hai bisogno di affetto saluto stefa giova scrive salvini appeso come un salame pensiero profondo intelligente proprio da liberazione da italia democratica federico campi scrive oggi più di ieri odio i carabinieri wow federico campi se ti rubano la bicicletta non andare dai carabinieri però è chiama i fantastici quattro qualcuno ti aggredirà se sarai vittima di un furto di una rapina di un'aggressione non chiamarli i carabinieri visto che li odi chiama peter pan o chiama la fata turchina o chiama i sette nani brontolo pisolo fessolo mamma mia io non accetto i delinquenti non sopporto i delinquenti e chi arriva clandestinamente nel nostro paese col barchino col barcone non ha diritto di stare qua per quello che una partita di calcio mentre alfonso dice ti cago nel salotto un signore cosa ti ha fatto di male il mio salotto ma poi ci sono i giochi dei miei bimbi perché devi venire qua nella casa della principessa non sta bene non sei mattia molteni matteo le palle le dici oltre che mettertele nel